In questo numero del Sarustigi, dalla conferenza mondiale 2016 sul tumore al polmone, importanti novità contro le forme avanzate. Gimbe, esercizio fisico cura efficace per le malattie croniche, ma i medici non lo prescrivono. Da avanzi preistorici, mappata la paliodieta, un tripudio di verdure. Ogni giorno in Italia si registrano più di 110 diagnosi di tumore al polmone e ancora oggi il 60-70% dei casi è individuato in fase avanzata. Ma ora si stanno aprendo importanti prospettive. Lo dimostrano i risultati di uno studio presentato a Vienna alla conferenza mondiale sul tumore al polmone. La novità sicuramente principale parla di un farmaco che si chiama Osimertinib. Il farmaco è dedicato ai pazienti che hanno la mutazione di EGFR. Osimertinib si è dimostrato in modo importante superiore rispetto a questo tipo di chemistica. in particolare con una riduzione del rischio di circa il 70% che ha un vantaggio consistente. Una buona cura efficace ed economica nelle malattie croniche, ma i medici non la prescrivono anche perché spesso sono poco informati sulle evidenze scientifiche e poco sensibilizzati. A dispetto di robuste evidenze scientifiche nelle malattie croniche l'esercizio fisico rimane infatti ampiamente sottoutilizzato rispetto a interventi farmacologici o chirurgici. Ad affermarlo è la Fondazione Gimbe che sul tema propone una riflessione e indicazioni chiare nel position statement Gimbe. Uno studio condotto in Israele getta una nuova luce sull'alimentazione paleolitica, molto più varia e ricca rispetto a quella riportata nei libri di oggi. Primo controordine, la tavola preistorica non era così sbilanciata verso le proteine come si crede. Anzi, gli scienziati che hanno mappato gli avanzi nel piatto dei nostri antenati di 780.000 anni fa parlano per la prima volta di un tripudio vegetariano.